Oristano, la direzione del servizio edilizia residenziale dell'assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, ha approvato il bando rivolto ai comuni relativo all'attribuzione dei contributi relativi al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. L'assessore alle politiche per la casa Carmen Murru precisa che i destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà e soggetti ad un atto di sfratto con citazione per la convalida. Le domande di partecipazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno compilate esclusivamente sul modulo messo a disposizione dall'ufficio politica e casa e disponibile presso l'URP, presso l'informa città e sul sito istituzionale. Alle domande debitamente compilate deve essere allegata, appena di esclusione, la documentazione richiesta nel modulo di domanda stesso.